Un'attesa lunga, un quarto di secolo, un'attesa che terminerà domenica prossima quando il Canosa debuterà ufficialmente nel campionato di eccellenza. Un Canosa che ha ritrovato, dopo 24 anni, il principale campionato di lettantistico pugliese. Grazie al ripescaggio di quest'estate, un Canosa che vuole ora fortemente difendere la categoria. Si parte domenica prossima dunque e il campionato per la squadra di Davide Papagni scatterà in trasferta contro l'Atletico Vieste. C'è una grossa responsabilità e ovviamente noi gruppo squadra, tecnico, faremo di tutto per difendere questa categoria. Sperando sempre nell'apporto della nostra tifoseria perché siamo una squadra giovane, una squadra neopromossa, quindi già pagheremo sicuramente lo scotto del cambio di categoria. L'attesa è tanta, la voglia di far bene altrettanta. Ha fatto bene intanto il Canosa all'esordio nella nuova stagione. Ne ha pareggiato sul sintetico amico del San Sabino contro il team Ortanova. La partita d'andata del primo turno di Coppa Italia di Lettanti. Uno a uno il finale. Gol splendido di Dascoli per il momentaneo vantaggio dei canosini padroni di casa. Aggancio immediato in mischia di Didedda prima dell'intervallo per i foggiani. Papagni è soddisfatto dei suoi. Se penso che nella mia squadra erano due giocatori che avevano fatto il campionato d'eccellenza perché gli altri erano giocatori che venivano dalla promozione, sono contento. La strada è quella giusta dal punto di vista della mentalità perché la squadra non ha mai mollato sia in vantaggio sia quando abbiamo pareggiato hanno tenuto sempre bene il campo. Abbiamo avuto anche delle buone occasioni, degli ottimi fraseggi. Quindi è un punto di partenza. Siamo consci che però la strada sarà dura. Questo lo dobbiamo dire all'inizio. Sarà un campionato pieno di difficoltà. Però l'importante è che ci faremo trovare pronti a ogni partita, a lottare, a non mollare mai. Di Coppa Italia di Lettanti se ne riparlerà giovedì 16 settembre quando in programma la gara di ritorno del primo turno nel domicilio del team Orta Nuova. Ora tutti i tesserati del Canosa sono concentrati sulla trasferta sul Gargano e sull'incrocio con il Vieste in occasione del debutto in eccellenza. 90 minuti che metteranno fine insomma ad un'attesa lunga 24 anni.